È stata una domenica da primato di ascolti per la nostra emittente che ieri ha superato nei dati Auditel ogni record stagionale di rilevazione. Ci piace comunicare che i telespettatori abruzzesi e molisani che si sono sintonizzati sul nostro canale 10 del digitale terrestre sono stati ben 174.736, merito soprattutto della esclusiva diretta in chiaro di Spalpescara su cui si è registrato il picco di ascolti dal tardo pomeriggio, ma i dati rilevati per fasce orarie sono stati costantemente elevati anche nel primo pomeriggio con la diretta calcio imperniata sui collegamenti delle gare della trasferta del Chieti a Sora e dell'Aquila a Senigallia. Un risultato straordinario che premia il lavoro di tutta la squadra di Rete 8 ma che è frutto anche e soprattutto dell'affezione e dell'apprezzamento dei nostri telespettatori, i primi che ci sentiamo di ringraziare.